Saper ascoltare significa andare oltre le parole per entrare nel mondo interiore dell'altro ed entrare nel cuore dell'uomo. Queste parole di padre Pino Puglisi racchiudono uno dei tanti messaggi del docufilm L'ultimo sorriso dedicato alla vita del prete, pellicola presentata sabato 13 maggio all'auditorium della RAI. Da un'idea del commissario Sergio Quartana, presidente dell'Associazione Culturale della Polizia Municipale di Palermo e della giovane regista palermitana Rosalinda Ferrante, direttrice della Cosmo Cinematografica, nasce un nuovo progetto sul sacerdote scomparso per mano mafiosa nel suo quartiere di Brancaccio nel giorno del suo 56esimo compleanno, il 15 settembre del 1993. L'idea della docufiction è quella di raccontare la vita e il martirio di padre Pino Puglisi, tre P come veniva chiamato da molti, senza fermarsi ai tre anni vissuti dal prete a Brancaccio come fanno le precedenti pellicole Alla luce del sole di Roberto Faenza e Brancaccio di Gianfranco Albano, ma mettendo in evidenza le motivazioni spirituali che hanno guidato il sacerdote lungo la sua missione sino alla morte. Il cast è composto principalmente da attori non professionisti, scelta voluta dalla regista, mentre il volto di padre Puglisi è stato interpretato dall'attore palermitano Paride Benassai, che è riuscito a ricreare il famoso sorriso e l'incedere lento, e ancora l'attrice palermitania Stefania Blandeburgo. La sceneggiatura è stata scritta dalla stessa regista in un paio di mesi dopo una serie di incontri e testimonianze raccolte anche dai familiari di padre Puglisi, che hanno pienamente sposato il progetto, tant'è vero che troviamo tra gli attori anche i pronipoti del sacerdote. I testi dei monologhi presenti all'interno del film sono stati redatti dalla scrittrice Teresa Gammauta, che ha recuperato le parole autentiche di Don Puglisi grazie alle lettere e registrazioni di interviste, mentre la fotografia e il montaggio sono stati curati da Maurizio Vuturo e le riprese video da Daniela Sicilia. La colonna sonora è del musicista Nicolò Renna.